La Regione Toscana ha stanziato altri 7 milioni di euro per contrastare l'erosione costiera. Di questi, 4 milioni e mezzo saranno utilizzati a Castiglione della Pescaia per il primo lotto di lavori nel tratto di litorale tra la punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna. Altri 2 milioni e 860 mila euro sono stati invece utilizzati per il ripascimento della spiaggia di Punta Ala, su cui sono stati riversati 90 mila metri cubi di sabbia. Gli interventi già eseguiti e quelli su Castiglione sono stati presentati dall'assessore regionale all'ambiente Monia Monni e dall'assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras, insieme alla sindaca Elena Nappi. Siamo consapevoli che i ripascimenti stagionali danno sollievo soprattutto al tessuto economico e quindi agevolano il turismo e rendono più accoglienti le nostre coste, ma sono interventi che hanno il respiro corto. Come nel caso di Puntala vanno associati a interventi strutturali che vadano a risolvere il problema. In questo caso è visibile l'effetto di questi lavori così importanti per i quali permettetemi di ringraziare il genio civile perché questi sono lavori made in Tascani, sono tutti fatti dai nostri dipendenti guidati da Renzo Ricciardi con un team di ingegnere al femminile e dalla progettazione alla direzione dei lavori è tutto fatto in casa toscana. Per quanto riguarda i lavori fra la foce del Brune e Riva del Sole è prevista la realizzazione di cinque isole sommerse a contrasto dell'erosione e l'inserimento di nove pannelli in massi e geotubi. Il ripascimento sarà effettuato con la sabbia antistante il porto di Marina di Grosseto. Procederemo nella stessa maniera con un altro tratto di litorale di altri sette chilometri, intanto abbiamo finanziato il primo lotto, restituiremo altri 20 metri a queste spiagge. Il primo lotto dei lavori a Castiglione sarà appaltato entro l'anno.